Carissimi, oggi 28 aprile 2023, festa di San Luisi Maria di Monfort, fondatore della famiglia monfortana. Ecco, desidero farvi gli auguri in questo giorno, ma penso che gli auguri più belli ce li abbia rivolti la Regina della Pace il 25 aprile, proprio pochi giorni fa. Cari figli, vi invito tutti ad essere portatori della pace e della gioia di Gesù risorto per tutti coloro che sono lontani dalla preghiera, affinché attraverso le vostre vite l'amore di Gesù li trasformi a vita nuova, vita di conversione e santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, nella festa di questo grande apostolo degli ultimi tempi, Maria ci augura e desidera che noi siamo portatori della pace e della gioia di Gesù risorto. Questo è l'annuncio del Vangelo, la gioia del Vangelo, la pace di Gesù che regna nei cuori, l'amore di Gesù, che questo amore trasformi a nuova vita, a conversione e santità le persone che incontriamo, soprattutto coloro che sono lontani dalla preghiera. Ecco, questo grande apostolo, San Luisi Maria di Monfort, era animato dall'amore di Gesù, ardeva per lo zelo della salvezza delle anime. E allora questo è quello a cui noi siamo chiamati. Oggi la Madonna ha bisogno di nuovi apostoli, di nuovi monforti. Ecco, ascoltiamo le parole della Regina della pace e siamo ciascuno per gli altri e soprattutto per coloro che ne hanno più bisogno, questo segno dell'amore di Gesù. Con queste parole vi lascio la mia benedizione per l'intercessione di Maria Santissima e di San Luisi Maria di Monfort. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.